Il beer è un prodotto esclusivo azienda agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Nuova giornata di ricerca, quella odierna, del pensionato di Cinto Caomaggione disperso a Chions dal 5 novembre scorso. La base operativa resta quella allestita in piazza Concordia, vicino alla chiesa di San Giorgio, dove è sempre attiva l'unità di comando locale dei Vigili del Fuoco di Pordenone. Alle prime luci dell'alba le ricerche sono riprese con una dozzina di volontari delle scuole comunali di protezione civile di Casarsa, Fiume Veneto, Prata, Sesto a Reghena, Valvasone e Arzene, che operano a supporto in piena sinergia con tutte le altre forze in campo. Nel conto alla rovescia verso le premiazioni della nona edizione del premio Percotto in programma venerdì 25 novembre, nella giornata di sabato l'inaugurazione del percorso letterario turistico dedicato a Caterina Percotto, percorso turistic dedicata a catine percude, percorsi di terra e cultura, realizzato dal comune di Manzano in sinergia con la regione Friuli Venezia Giulia e Arlef. Il percorso si snoda per circa 6 chilometri, si può percorrere a piedi o su due ruote. Una vera e propria passeggiata culturale nel segno del turismo sostenibile dalla casa natale di Caterina Percotto alla chiesa di San Lorenzo, quindi verso la quercia di Caterina Percotto, ancora in direzione di Villa Piccoli di Brazzà Martinengo. Si prosegue verso i prati di Soleschiano e il mulino di Caterina Percotto, destinazione finale Mazzinello, Villa Morelli De Rossi. In corrispondenza ad ogni luogo peculiare dell'opera della scrittrice, le icon book curate dallo studio Atelier Borella di Manzano, con i testi della studiosa Elisabetta Feruglio, per accompagnare i lettori negli angoli più suggestivi della cultura e letteratura espressa. Le stazioni portano così nei luoghi che l'autrice descrive con il suo lessico fortemente ancorato al reale. La segnaletica consentirà di approfondire i dettagli legati ad ogni luogo attraversato una tecnologia interattiva con un codice QR che rimanderà anche ad estratti scelti dall'opera di Caterina Percotto legati alla stazione nella quale ci si trova. Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti.